La questione del tempo viene affrontata sotto due grandi aspetti, se vogliamo il tempo è Dio, il tempo è l'uomo. Agostino stesso prende in giro, così potremmo dire antelitteram i creazionisti di oggi, citando un aneddoto in cui si racconta che cosa faceva Dio prima della creazione e preparava un bastone per bastonare coloro che avessero posto questa questione. Perché questa questione è così stupida? Perché uno degli elementi innovativi della metafisica agostiniana della creazione è precisamente questo, che il tempo non c'è precisamente se non come dimensione d'essere del mondo, del mondo finito, della creatura finita. Così come l'eterno è il modo d'essere dell'assoluto, del divino, così il tempo è il modo d'essere della creatura, cioè della contingenza, della dipendenza e quindi della mortalità. Cosa vuol dire questo? Che da un lato, diciamo, Agostino innova enormemente sulla concezione greca dei rapporti fra tempo ed eternità. Se ci pensiamo, c'era una bella definizione platonica, certamente nota ad Agostino, di cosa sia il tempo, immagine mobile dell'eternità, Platone ha in mente il giro delle stelle. Tutto torna, tutto si ripete in questo ciclo in cui, ecco, platonicamente, come dire, ciò che avviene nel mondo avviene solo in quanto partecipa dell'eterno. Con l'idea agostiniana e naturalmente di radice biblica di creazione, l'innovazione irrompe, irrompe nel pensiero europeo. E cioè quello che salta in qualche modo è appunto questo tempo ciclico, questo eterno ritorno, classicamente greco, e quello che si apre è in sostanza il mondo della storia, dove, come dice Agostino, l'uomo inizium utesset creatus est, fu creato, e come tradurre questa inizium utesset? Per essere un inizio? Perché si desse il nuovo? Perché ci fosse storia? Ognuna di queste traduzioni può essere adeguata. Dice Agostino, che cos'è l'eternità? Non è un tempo senza fine, ma è il presente di Dio, così come il nostro presente è il modo del nostro esserci, qui ed ora precisamente, e essendo il nostro modo, il nostro esserci finito, questo ora è un'ora che passa e questo vuol dire che il tempo appunto fluisce, non resta. Invece l'odiernum tum, l'oggi di Dio, il presente di Dio è stans, non scorre, non fluisce, è presente eterno. Ecco, c'è una definizione bellissima di che cosa sia l'eternità, che è interminabilis vite tota simul et perfetta possessio, vale a dire, diciamo, il possesso, il godere, simultaneo e completo, pieno di una vita interminabile, tutta qui, tutta ora, tutta data e che non sfugge mai, che non passa mai. Ecco, questo è il rapporto fra l'eterno e il tempo o il tempo dal punto di vista di Dio, forse vogliamo.